Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo video della serie di gameplay di The Sims 4 ed eccoci qui nell'episodio 26 dopo l'episodio 25 nel quale siamo stati con Emanuele a Forgotten Hollow e abbiamo esplorato il quartiere vampiresco con anche la nuova arrivata Andrea che sembra avere a che fare con il conte quindi non sappiamo i suoi piani malvagi e poi abbiamo anche visto le novità introdotte con l'ultimo aggiornamento inerenti al divali la festa indiana che vede il prevalere del bene in confronto al male eccoci qui nell'episodio 26 allora come vedete il nostro Emanuele e Elisa si sono svegliati hanno tutti i bisogni a posto perché gliele ho sistemati tutti quanti, li ho soddisfatti tutti quanti, li ho fatti mangiare e anzi Emanuele ha preparato anche la sua prima macedonia che è stata uno schifo completo e stanno guardando la tv per bambini Emanuele sta guardando i programmi per bambini ricordandosi la sua infanzia vedete ha preparato Emanuele una macedonia scadentissima anche se gliel'ho fatta mangiare lo stesso e infatti lei dice cibo gusto cattivo vabbè Emanuele non è proprio un grande cuoco abbiamo capito allora sono le 2.47 vediamo un pochettino il padre dovrebbe tornare tra pochissimo e dovrebbe portare a casa una bella promozione mentre magari con Emanuele possiamo riniziare da zero questo progetto visto che ogni volta che ci passa davanti si arrabbia perché la sorella gliel'ha distrutto quindi aspettiamo magari che il padre torni a casa no non ha avuto la promozione non ci credo non ha avuto la promozione ma che peccato inizia da zero me l'ha fatto così ok quindi lavora attentamente e quindi ha acquisito l'abilità di pittura quindi aumenta l'abilità di pittura questo progetto scolastico ok va bene va bene va bene quindi in questo episodio cosa faremo Emanuele ha preso al cuore Forgotten Hollow e ha deciso di convincere i suoi genitori magari vediamo un po' cosa riusciamo a convincere lei discutite gli interessi vediamo un po' cosa riusciamo a discutere di Forgotten Hollow e magari riusciamo a convincerla dai facciamo una cosa le offriamo un massaggio alle mani così l'abbiamo corrotta insomma le offriamo un bel massaggio alle mani che dite ma si dai ecco qua la mamma che si gode il bellissimo massaggio alle mani offerto dal figlioletto ecco qua guardate consegui il livello 2 di un'abilità ok acquisito l'abilità di benessere vedete sembra che il bug delle mani non si sia ripresentato quello che abbiamo visto qualche episodio fa però mai dire mai insomma si potrebbe anche ripresentare quel bug orribile ok quindi abbiamo fatto un bel massaggio abbiamo corrotto la mamma e il padre viene senza problemi perché con la sua macchina fotografica può tranquillamente fare foto a chi vuole la sorellina la portiamo ma si dai facciamole conoscere anche a lei questo mondo dei vampiri e quindi direi di andare ed eccoci qui in viaggio allora andiamo a Forgotten Hollow perché Emanuele vuole far vedere il quartiere i suoi genitori e poi da quando ha incontrato Andrea Villa comincia comunque ad avere un interesse per lei si sente come attratto da lei vediamo un poco cosa succederà allora andiamo quindi di nuovo ad Andrea vediamo un poco di chiacchierare ancora un pochettino e allora ci andiamo con Valentina, con Filippo quindi ci andiamo con la famiglia ecco qua ed eccoci qui di nuovo a Largo Carly Clouter allora no aspetta facciamo venire aggiungiamo a gruppo lei ok direi di andare un po' magari nella piazzetta del quartiere dove ci sono anche gli scacchi andiamo qui insieme ecco qui abbiamo tutti quanti quindi si sente abbastanza attratto da lei vediamo un pochettino cerchiamo di farle dei complimenti e di fare colpo dai un colpetto sul naso di fondi di cerie sfoggia il selfie guardate che carini sono molto molto sfiziosi insieme e poi sembra anche interessato i vampiri il nostro Emanuele anche se lei si sta bruciando aspettate non voglio che mi muoia in questo momento sono le sei di sera magari la facciamo andare non voglio che mi muoia sotto gli occhi non voglio che mi muoia sotto gli occhi muoviti vai ho detto ormai sei piccolina però per me vai qui insieme forza 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 aspetta eccola qui ok così non si brucia ed eccoci qui con il nostro Emanuele allora quindi hanno già fatto parecchia amicizia Andrea ed Emanuele ed Emanuele si sente sempre più attratto da Andrea che Andrea abbia usato qualche potere vampiresco per far innamorare Emanuele di sé chi lo sa comunque Emanuele gli chiede qualcosa all'orecchio gli dice che è molto innamorato di lei quindi gli confida questo segreto lei rimane molto molto sorpresa ma lei decide di rivelare la triste verità Andrea non è quello che sembra è una grande vampira che per incarico del conte ha deciso di trasformare Emanuele e quindi di portare nella loro specie di vampiri anche Emanuele ecco qui quindi Emanuele che sta per essere trasformato in vampiro da Andrea la sua cotta barra malvagia cotta insomma vediamo un pochettino se la trasformazione ha avuto successo e sì Emanuele è stato trasformato in un vampiro da Andrea è stato ingannato assolutamente perché lui ha fatto tanta amicizia con Andrea gli sembrava una persona davvero molto carina attraente anche con questo vestito da piratessa che le rendeva speciale e invece è stato ingannato e quindi è stato trasformato in vampiro chissà se poi in futuro riuscirà a curare questa sua maledizione ma ormai se la deve portare con sé almeno finché non passa l'età fino al giovane adulto e quindi sicuramente poi Andrea cercherà di portarselo dal conte ma Emanuele ormai ha capito tutto non metterà più piede nella casa del conte e ok quindi Emanuele è stato trasformato in un vampiro da Andrea anche se la loro relazione non è scesa quindi si vede che comunque Emanuele è ancora un po' attratto da Andrea e quindi magari sboccerà anche qualcos'altro fra di loro magari un finanziamento un primo amore un primo bacio ma per ora non possiamo dirlo perché Emanuele è anche abbastanza frustrato per colpa dell'inganno e quindi la disprezziamo assolutamente perché ci ha veramente ingannati non si fa così Andrea guardate come ha arrabbiato Emanuele e empatia gli sta diminuendo magari facciamo anche un'altra cosa insinua che la mamma sia un lama ma si insinuiamo che la mamma sia un lama e ok quindi Emanuele adesso non vuole far altro che andarsene come dirà questa notizia ai genitori in realtà forse Valentina ha assistito o comunque possiamo tornare a casa ci è cascato in pieno è andato a Forgotten Hollow a incontrare questa nuova arrivata di cui si era innamorato e alla fine è stato ingannato è stato trasformato in un grande vampiro e quindi rieccoci qui nel nostro appartamento dopo l'inganno di Andrea rieccoci qui nel nostro appartamento allora quindi tutti quanti hanno avuto la notizia e sono abbastanza sconvolti ma sono anche abbastanza sconvolti per il sonno quindi direi di mandarle a dormire visto che anche Andrea adesso dico tutti Andrea Filippo deve andare al lavoro vediamo se riesce ad avere una promozione la bambina deve farsi una doccia deve andare a letto e invece Emanuele abbastanza scocciato si è andato subito a farsi un pisolino e come vedete a lui la fame sta diminuendo moltissimo e sicuramente anche ecco qui abbiamo anche quest'altro stato umorale aspettate che stanno tutti dormendo allora stranamente affamato l'appetito aumenta ma non esattamente di cibo vedete sta diminuendo tantissimo la fame però non è affamato di cibo perché quando ingerisce cibo non ha lo stesso effetto cerca di vomitare quando ingerisce del cibo umano e quindi significa proprio che sta per essere trasformato in un vampiro ok quindi direi di far riposare tutti i nostri sim in effetti Elisa è abbastanza triste perché non ti osservi il paiozzo tragico questo dipinto riempie di Elisa di profonda afflizione ed è arrivato il paiozzo tragico Dhruv a Caria anche se non ha proprio la veste del paiozzo tragico comunque veramente un paiozzo tragico così non si è mai visto cioè ma veramente ma guardatelo ah i calzini le scarpe il costume da bagno la cosa da lama ma cos questo va assolutamente scattato nella foto perché questo non si può perdere fate anche voi una foto questo è un tristo o segui figlio il mio antico plasma percepisce che sei stato appena trasformato c'è ora qualche giorno per diventare un vampiro vero e proprio ma non temere la notte paziente avete visto come avete visto come Andrea era collegata al conte il conte subito è venuto a conoscenza della notizia e infatti subito c'ha scritto un messaggio che non si sa dove ha preso il numero però ecco qui vedete tutto è collegato quindi assolutamente Andrea era collegata al conte come abbiamo visto all'inizio nello scorso episodio quindi abbiamo svelato i segreti vampireschi e quindi penso abbia sbloccato l'abilità di tradizione vampiresca ecco qui i simassetati di conoscenza si immergeranno nella lettura di questi libri sarebbe sciocco sorvolare sugli utili consigli che contengono l'abilità di tradizione vampiresca migliora svolgendo ricerche sui vampiri al computer o leggendo i tomi sbloccati sui vampiri allora visto che lui è abbastanza curioso che dici se magari ti vai a fare una ricerca o guardi un po' i segreti vampireschi cerchiamo informazioni mentre tu Elisa magari smettila di parlare con questo pagliaccio che è abbastanza triste è orribile questo pagliaccio tragico comunque vediamo un poco guardate a mal di pancia Emanuele si sta per trasformare comunque ha sbloccato un tomo Emanuele ha scoperto un emporio vampiresco di Von Flavius mentre svolgeva ricerche sui vampiri e dopo acquistare l'enciclopedia tre canini e ok schernisci la tristezza ah quindi posso anche insultarlo perché è triste va bene comunque sono tutti abbastanza a disagio magari facciamo andare a dormire lui dovrebbe andare al lavoro infatti ok quindi visto che lui è andato al lavoro aspettiamo che torni e vediamo se prende una promozione purtroppo mi è spuntato un'opportunità per cui mi dicevano di accettare o rifiutare la mazzetta per un evento lavorativo ho accettato la mazzetta e purtroppo mi è calato il rendimento è calato ed è stato anche un calo medio quindi la promozione sicuramente non ce la prendiamo aspettiamo che tornino a casa solamente un po' di soldini infatti 420 e direi che per questo episodio può essere veramente tutto quindi questa settimana dallo scorso episodio di lunedì a questo episodio abbiamo visto un po' Forgotten Hollow e abbiamo introdotto nel gioco un po' la famiglia del conte e soprattutto questa sim Andrea che ci riserverà comunque altri segreti e altre cose quindi ci riserverà anche altre sorprese ma comunque come abbiamo visto all'inizio Andrea era stata trasformata dal conte e quindi stata incaricata dal conte di trasformare Emanuele ed Emanuele ci è cascato ovviamente essendo appena passato ad adolescente ci è cascato e quindi è caduto nel tranello ed è stato trasformato in un vampiro però Emanuele non si sente del tutto triste della sua trasformazione in vampiro perché si sente ancora abbastanza innamorato di Andrea e secondo lui può essere anche dell'amore vero ma comunque vedremo un pochettino come si evolverà la cosa adesso il prossimo episodio sarà l'episodio speciale Halloween quindi vedremo tutte le novità aggiunte con accessori da brivido e vedremo una grande festa spettrale chissà se poi durante la festa Emanuele si trasformerà in vampiro e renderà tutto molto più spaventoso chi lo sa magari annuncerà questa notizia anche i suoi amici in questa maniera ma comunque direi che per questo episodio può essere tutto spero che questi due episodi con anche queste scenette iniziali e finali con questa suspense insomma vi siano piaciute se volete altri episodi così comunque è una storia un po' più intricata ditemelo nei commenti perché a me fa veramente piacere infatti è stato veramente un piacere registrare questi episodi con le scenette con questa storia di Andrea e comunque andrà avanti questa storia di Andrea assolutamente quindi la nostra serie diventerà un po' più intricata quindi con una storia un po' più interessante spero che questo vi faccia piacere quindi vi invito ad iscrivervi commentare con tutti i vostri pareri se vi piace che Emanuele sia diventato un vampiro se vi piace la mia scelta di averlo trasformato in vampiro eccetera fatemi sapere tutti i vostri pareri magari anche su Andrea sul conte su Forgotten Hollow sul prossimo episodio se vi sono piaciuti questi due episodi della settimana se avete ovviamente qualsiasi consiglio ovviamente vi ringrazio sempre per iscrivervi lasciare commenti like siete veramente fenomenali vi ringrazio davvero tanto e quindi vi invito anche a lasciare like condividere e poi vi invito a vedere il prossimo episodio che sarà lo speciale Halloween e quindi per questo episodio può essere tutto ci vediamo al prossimo e ciao a tutti ciao a tutti